deve aver cambiato di nuovo strategia comunicativa Chiara Ferragni, che dopo settimane di silenzio sui social torna con un mood decisamente diverso rispetto a quello più dimesso e tutta casa e fa deve aver cambiato di nuovo strategia comunicativa Chiara Ferragni, che dopo settimane di silenzio sui social torna con un mood decisamente diverso rispetto a Sarà che non può più mostrare i figli in viso e continuare a fotografarsi con loro di spalle potrebbe essere iniziato a risultare ridicolo anche a lei Oppure avrà notato che scendere dal piedistallo sarà che non può più mostrare i figli in viso e continuare a fotografarsi con loro di spalle potrebbe essere iniziato a risultare ridicolo anche a lei Oppure avrà notato che scendere dal piedistallo sarà che non può più mostrare i figli in viso e continuare a fotografarsi con loro di spalle potrebbe essere iniziato a risultare ridicolo anche a lei oppure avrà notato che scendere dal piedistallo sarà che non può più mostrare i figli in viso e continuare a fotografarsi con loro di spalle potrebbe essere iniziato a risultare ridicolo anche a lei oppure avrà notato che scendere dal piedistallo sarà che non può più mostrare i figli Chiara Ferragni si fa rivedere su Instagram pubblicando un post elegante e sexy La prima foto è un selfie allo specchio, con un abito nero lungo e uno spacco vertiginoso che arriva fino a sopra l'anca poi una serie di scatti di una mostra a Venezia dove era ospite e ancora un viaggio La prima foto è un selfie allo specchio, con un abito nero lungo e uno spacco vertiginoso L'altra grande novità è il post, scritto solo in inglese e puramente descrittivo del momento Felici di essere a Venezia per l'inaugurazione della bellissima mostra Musee delle Lacrime del L'altra grande novità è il post, scritto e curata da Donna Sien Grau La mostra presenta una selezione delle opere di Francesco, alcune realizzate per l'occasione Accanto ai capolavori del Museo di Pittori come Cosmetura, curata da Donna Sien Grau La mostra presenta una selezione delle opere di Francesco Il progetto rende inoltre omaggio all'architetto Carlo Scarpa e al suo magistrale lavoro sul museo e sull'identità storico-artistica di Venè Un post condiviso da Chiara Ferragni Stelline Chiocciola Chiara Ferragni